A Novara, zona Sacro Cuore e Arte Casa, propone questo appartamento di 110 metri quadri al piano rialzato. Recentemente ristrutturato, è composto da ingresso living nel soggiorno, una grande cucina abitabile, camera matrimoniale, camera singola, bagno finestrato ed un comodo ripostiglio ad uso lavanderia. Completano la proprietà, un balcone al servizio della cucina, una cantina e un'autorimessa posta al piano terreno. Al suo interno non vi è alcun lavoro da eseguire, in quanto l'immobile è stato ristrutturato totalmente, con pavimenti in gress porcellanato, infissi in alluminio con vetro camera e zanzariere, tapparelle elettriche, porta blindata e impianti totalmente rifatti. L'appartamento è dotato di impianto di climatizzazione e impianto d'allarme. Per tutte le informazioni, Arte Casa Immobiliare. Arte Casa. L'arte di vendere case.